Sicuramente la partita ha avuto due facce. Nel primo tempo l'avversario è stato migliore di noi. Nel secondo tempo abbiamo trovato il nostro ritmo e abbiamo creato parecchi problemi all'avversario. Vorrei ringraziare i nostri giocatori che hanno creduto che ce la potevano fare. Che sono riusciti ad affrontare un avversario molto importante. E che sono dimostrati migliori sicuramente nel secondo tempo. Ma questo che metterà sul potevano è quello che conta però alla fine. È molto importante alla fine della partita. O che è stato molto importante per una squadra. La squadra ha dimostrato che può affrontare tutti gli avversari alla Paris. Siamo entrati nell'Olimpico e abbiamo affrontato un avversario molto importante senza paura.